L'Alma rafforza il proprio quarto posto superando 3-1 al Mancini il Montegiorgio che rimane in una difficile condizione di classifica. Nello schieramento iniziale dei padroni di casa Mosconi propone alcune novità con Allegrucci nei tre di difesa e Carrà esterno mentre Baccia all'esordio sulla panchina rosso-blu ritrova Morganti cambiando poco rispetto all'undici del suo pre-escessore Izzotti. Dirige la signora Arianna Bazzo di Bolzano. L'Alma rispetta il copione già visto in campionato iniziando subito la gara a gran ritmo e costringendo all'indietro la squadra ospite che rischia di ritrovarsi sotto già dopo 8 minuti. Severini crossa da destra, Zanni corregge la traiettoria con il pallone che va a sbattere contro la traversa. Passano 3 minuti e il Fano passa in vantaggio proprio con lo stesso Zanni. Cross di cara da sinistra, Pistolesi libera corto e il numero 11 Granata raccoglie al limite e di destro va ad infilare l'angolino basso i Forconesi per l'1-0. Trovato il vantaggio l'Alma rallenta e il Montegiorgio prova a reagire e dopo averci provato al sedicesimo con una girata debole di Perpepai che non impensierisce Tommasino agguanta il pareggio al diciassettesimo. Cardoni si incunea sulla destra e appoggia all'indietro per la corrente Monza che di piatto destro angola bene mandando il pallone contro la faccia interna del palo e poi in rete per l'1-1. Il gol sembra dare fiducia alla formazione ospite mentre l'Alma non trova il modo di rialzare il ritmo e torna a farsi viva solo al 32esimo con Allegrucci che ci prova da fuori, Forconesi si distende e blocca. La gara resta in equilibrio per i minuti restanti e quando le squadre sembrano ormai destinate a tornare negli spogliatoi in parità i padroni di casa si riportano in vantaggio proprio prima del riposo. Nappello premia con un assist preciso l'inserimento di Severini che davanti a Forconesi resta freddo e supera con un pallonetto morbido il portiere rosso-blu per il 2-1. A rientro in campo dopo l'intervallo l'Alma mostra subito l'intenzione di chiudere la gara ma il Montegiorgio riesce a trovare spazi per affacciarsi in avanti e creare qualche drattacapo alla difesa di casa ma al settimo i ragazzi di Mosconi trovano il modo di mettere al sicuro il risultato. Carrà se ne va sulla sinistra e centra basso sul primo palo dove Diop tenta di contrastare Nappo il pallone finisce alle spalle di Forconesi per il 3-1. La partita resta viva e combattuta il Montegiorgio prova a riaprire la gara mentre l'Alma punge spesso di rimessa all'occasione per il 3-2 arriva alla mezz'ora di gioco quando su punizione a destra Diop stacca in mezzo al mucchio e colpisce bene di testa Tomassino si supera e respinge. L'Alma invece potrebbe arrotondare il risultato con Drolet al 32esimo che libera il sinistro in corsa Sfera che si alza di poco sopra l'incrocio e poi al 35esimo quando è Forconesi a volare per deviare in tuffo la bella conclusione di Cecconi. Il Montegiorgio non si dà per vinto e ci prova fino all'ultimo ma l'Alma controlla con grande autorevolezza senza rischiare più nulla fino al triplice fischio finale. La partita sappiamo che era parecchio difficile conosciamo, anzi personalmente conosco Montegiorgio da tempo perché da un po' che faccio questo girone è sempre una squadra difficile da affrontare magari potevano avere più motivazioni di noi perché quando si lotta per non retrocedere magari dai quel qualcosa in più e quindi noi dovevamo almeno pareggiare la loro voglia di portare a casa il risultato. Come hai detto tu c'è stato magari quel momento in cui abbiamo calato un pelo l'attenzione ma dopo penso che la squadra ha reagito bene abbiamo lottato tutti chiunque è entrato ha cercato di dare il proprio contributo e la squadra ha dato una risposta e abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto. Ho giocato un po' meno ma ho cercato sempre di allenarmi bene e farmi trovare pronto poi adesso il mister mi ha dato l'opportunità sì forse devo dire che fisicamente mi sento molto bene sono in fiducia sento soprattutto la fiducia del mister ma soprattutto da tutti i compagni riesco a rendere al meglio poi il gol è la ciliegina sulla torta quello che conta è il risultato della squadra. Sei riusciti a sbloccarla inizio partita prima per già la traversa e poi sulla pala successiva ho fatto gol era importante sbloccarla perché con queste squadre che ci giocano la salvezza fino alle ultime giornate trovare il gol subito nel primo tempo è molto importante poi come è già capitato altre volte abbiamo preso gol quasi subito dopo e siamo stati bravi a dargli la mazzata finale nel primo tempo e poi nel secondo a chiudere. Sì no sicuramente sappiamo che il fan lo sapevamo che era una squadra molto forte quindi non era facile però sappiamo anche che dobbiamo fare per forza punti perché la classifica è brutta io in settimana parlerò ancora con i ragazzi perché insomma chiaramente bisogna riuscire a dare qualcosina in più a tratti è chiaro che il Fano si sa che è una squadra pericolosa però abbiamo commesso degli erroretti che delle volte in questo periodo qui ci costano caro insomma no mi riferisco al primo gol abbiamo preso il primo gol il secondo gol il 2 a 1 a un secondo dalla fine è chiaro che si entra nell'intervallo uno pari abbiamo un alto morale un'altra situazione è proprio l'ultimo secondo quindi vuol dire che lì dobbiamo essere più rabbiosi più cattivi in queste circostanze ecco quello è un po' il ramarico poi dopo so che ci sarà da lavorare molto dovrò impegnare di più dovrò fare meglio sicuramente perché dobbiamo fare punti e basta non c'è poco da parlare da fare dobbiamo riuscire a migliorare la classifica quello che insieme alla squadra dobbiamo fare per forza per un posto altre partite non dobbiamo riuscire a fare più punti possibili oggi siamo partiti abbiamo fatto zero punti quindi dobbiamo recuperare domenica arriva il mattese dobbiamo centrare la vittoria dobbiamo fare per forza il risultato per cui lo sappiamo i ragazzi lo sanno sono consapevoli e quindi collaboreremo ancora meglio per riuscire a ottenere questa vittoria